Ciao, sono Tiziano De Tommaso e bentornato in TennisWinnerGame.com, la piattaforma online numero uno in Italia per giocatori appassionati di tennis proprio come te. Oggi parliamo di impugnature, continuiamo con questo argomento soprattutto per quanto riguarda le impugnature del dritto. Ci sono tre tipi di impugnature principali per quanto riguarda il colpo del dritto, ovvero una Eastern Grip, una Semi-Western Grip o una Western Grip. Ovviamente da sconsigliare tutte le impugnature estreme come la Continental che abbiamo visto precedentemente per quanto riguarda il servizio e la Full Western, ma dopo andremo anche a vedere perché gli estremi non vanno bene. Allora per quanto riguarda innanzitutto partiamo dalla Eastern Grip, quindi dall'impugnatura Eastern, dobbiamo sapere che il tappo della racchetta è formato appunto come se fosse un ottagono e quindi andando a numerare dalla parte superiore di questo ottagono con il numero uno nella prima faccia e andando poi scorrendo in senso orario numero due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto riusciamo a ritrovare la nostra corretta impugnatura. In che modo? Prendendo in considerazione la nostra prominenza muscolare che si trova qui in fondo alla parte dell'indice. Quindi la base, chiamata anche base dell'indice, è molto importante per riuscire a ritrovare la corretta impugnatura. Andando appunto sulla base dell'indice, l'Eastern Grip, andando a, una volta capito il funzionamento delle otto facciate dell'ottagono sul manico della racchetta, la prominenza muscolare, la base dell'indice va appunto sulla faccia numero tre. Quindi una volta che hai messo la tua base dell'indice sulla faccia numero tre del grip, hai ottenuto la tua impugnatura Eastern di dritto. Per quanto riguarda la Eastern, quindi con la base dell'indice sulla faccia tre dell'ottagono del tappo della racchetta, questa è un'impugnatura meno usata a livello professionistico, però molto usata a livello nostro, a livello dilettantistico e tra gli appassionati di tennis. Questo perché? Perché molto spesso vieni da una situazione dove hai giocato con delle racchette di legno, o comunque sia con delle racchette diverse, ed eri abituato all'impostazione classica col dritto quasi in continental. Quindi la Eastern è assolutamente l'impugnatura più semplice da apprendere per riuscire a mantenere quasi inalterate le componenti biomeccaniche e tecniche del tuo colpo, girando leggermente l'impugnatura e consentendo una leggera rotazione in topspin alla palla. Infatti grazie alla Eastern di dritto, ovviamente hai una componente in spinta verso l'avanti prioritaria e meno rotazione, però comunque sia il topspin riesci ad averlo ugualmente. Devi sapere che una Eastern rispetto a una semi-Western di dritto ha una rotazione interna del braccio inferiore, quindi minore topspin. Però è un giusto compromesso tra chi passa da una continental, che è sconsigliata, a un'impugnatura un po' più girata che consente di attraversare la palla in avanti e poi andare in componente rotazionale. Con questa impugnatura, come hai visto, la componente orizzontale è maggiore e più complicato di riuscire a dare topspin, quindi hai più pesantezza di palla in avanti e meno complessità verso l'alto. Infatti hai visto che la palla passa quasi a filo rete, quindi è molto complicato comunque riuscire a giocare una buona traiettoria in topspin. Grazie per aver visto questo video, se il video di oggi ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace alla pagina Facebook Tennis Swinner Game, a iscriverti al canale YouTube Tennis Swinner Game e a commentare questo video proprio qua sotto riguardante le varie impugnature del dritto. Ti invito inoltre a visitare il sito internet www.tenniswinnergame.com dove io e il mio staff stiamo in continuazione migliorando le diverse sezioni del nostro sito per poter migliorare sempre di più te e il tuo tennis. Io ti ringrazio, ti auguro una meravigliosa serata, ci vediamo domani con un'altra video lezione gratuita qua su TennisWinnerGame.com, la piattaforma online numero uno in Italia per giocatori e appassionati di tennis proprio come te. E come sempre, play tennis with passion. Ciao!